Le parole, anche se non con il ritmo della musica, sono ripetute perché stampate nella memoria e regalano la bellezza di un sorriso. In fin dei conti, l'obiettivo dell'iniziativa di Villa Ranuzzi è proprio questo, donare agli ospiti della struttura un momento di divertimento e spensieratezza in un periodo in cui mancano, in ogni ordine, grado di vita. Si chiama Concerti alla finestra, l'iniziativa voluta dalla dottoressa Federica Taddia, responsabile del servizio socioeducativo della CRA bolognese e associata al consorzio ospedaliero Colibri. È un'iniziativa bellissima, esordisce una delle ospiti che hanno partecipato al concerto del musicista bolognese Stefano Sammarchi. Perché ti dà quel certo che di energia, di bello, di bello, che ci vuole, per me ci vuole. Quando ero al verde l'ho già vista altre volte, mi ti dimentico, certo che di cariche, che siamo sempre chiusi dentro. Quest'idea è nata sulla bella esperienza della scorsa settimana, scaturita dall'idea di un familiare e di un nostro ospite. È un messaggio molto importante di rinascita e di speranza per i nostri ospiti, come noi abbiamo ripreso ad andare al cinema, al teatro, quindi anche per loro è un aspetto molto importante. Da adesso in poi anche noi faremo questa iniziativa in modo fisso. Un momento di gioia e convivialità per dare un messaggio di riapertura alla vita attraverso il potere terapeutico della musica. Sans, che bellezza, che bellezza. Un concerto così non l'ho mai fatto.